Delle nove gare della ventiseiesima giornata in programma questo pomeriggio, ben quattro incontri sono stati posticipati alle quattordici. Si tratta di Cittadella Regina, Gallipoli-Vicenza e Triestina-Cesena. Invece, alle sedici e quindici, si disputeranno Ancona-Patova, Frosinone-Empoli, Mantova-Sassuolo, Modena-Grosseto e Piacenza-Albinoleffe. Crotone-Elecce, l'ultima in calendario, si giocherà lunedì 22 alle 20.45. Intanto ad Ancona tirano un sospiro di sollievo per il punto di penalizzazione che la disciplinare sui deferimenti della Procura federale ha inflitto a carico della squadra di Salvioni. Sono felici i marchigiani perché di punti di penalizzazione ne rischiavano due, in quanto imputati di due illeciti amministrativi inerenti il mancato pagamento di alcuni stipendi e delle ritenute IRPEF ed EMPALS. Un punto di sconto lo hanno avuto grazie all'ammenda di 20.000 euro. A questo punto la domanda ci sorge spontanea. Non avrebbero potuto infliggere un punto di penalizzazione 20.000 euro anche al Crotone, anziché i due punti inflittici senza nessun attenuante? Passiamo alla medaglia d'oro di Giusy Macri. Coronati i successi, coronati i lavori Oscar con la medaglia d'oro di Giusy Macri ai campionati nazionali cadetti tenutisi a Terni. Sì, domenica 14 siamo stati a Terni a disputare la finale nazionale dei campionati italiani cadetti. Un appuntamento importantissimo per noi perché era obbligatorio fare i primi, cioè era obbligatorio battere la campionista italiana uscente del 2009. Perché era obbligatorio Oscar? È obbligatorio in quanto il campionato italiano rappresenterà l'Italia in tutte le manifestazioni internazionali riservate alla classe cadetti. E quindi voglio dire che era obbligatorio batterla in quanto un'atleta blasonata, secondo gli europei cadetti, aveva esperienza internazionale. E quindi un lavoro programmato nei minimi dettagli affinché Giusy potesse riuscire a battere quest'atleta. Un'atleta da un punto di vista morfologico molto dotata. Alta 1,85, alta Giusy è alta 1,60. Quindi abbiamo dovuto programmare veramente una strategia di gara che gli permettesse di realizzare al meglio la sua performance. Ci siamo riusciti bene e battendola, voglio dire, alla grande. Questo grazie al tuo lavoro, ma lo sai che quando combatti tu sul tatami è come se ci fosse anche lui? Sì, sì, lo so. Però anche rappresento Crotone e rappresento soprattutto Giuseppina Macri perché c'è un nome e un cognome molto importante anche a livello internazionale. Hai mantenuto la prima promessa. Questa medaglia d'oro è arrivata ai campionati nazionali cadetti. Il tuo prossimo impegno legato ad una promessa qual è? Il mio prossimo impegno sarà agli europei cadetti. Sì, sì, lo so questo. La promessa? Ci farei medaglia. Ci accontentiamo anche di un bronzo? Sì, sì, anche io mi accontenterei di un bronzo. Poi un'altra cosa. Ho chiesto ad Oscar se si può ipotizzare un percorso di un'atleta che sta crescendo anno dopo anno come te. Sono delle tappe molto importanti per portarsi a quella che è la competizione che corona i sogni di ogni atleta, le Olimpiadi. Molto dipenderà da te, lo so che è ancora presto, però è un obiettivo che anche se lontano può essere programmato. Quindi molto dipenderà da te, dalla tua voglia, dalla tua determinazione, dalla tua volontà di arrivare quando sarà. Sicuramente la voglia c'è, anche perché sono una ragazza che mi impegno tantissimo, lavoro e il lavoro paga, soprattutto. Quindi io darò del mio meglio. Perfetto. Grazie.